Il territorio di Campobello di Licata, la ribalta dell'enologia nazionale, una azienda del territorio a Roma ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento. Sì, da due anni noi partecipiamo a un concorso, oggi possiamo dire che è internazionale, perché c'era anche una sezione che era di carattere europeo, e quindi con vini spagnoli, vini del Belgio, vini francesi, e anche una sottosezione che era sui vini biologici. Noi in questa sezione dove abbiamo partecipato, che è la nostra categoria dove degnamente l'abbaglio del Cristo da due anni partecipa, abbiamo preso due medaglie d'oro e due medaglie d'argento, su quattro tipologie di vini diversi. Quindi oggi questo premio ha una sua caratteristica, selezione del sindaco. Significa che il sindaco promuove il proprio territorio, significa che il sindaco promuove assieme alle aziende del territorio che è un sistema produttivo. E quindi noi quest'anno e il secondo anno, l'anno scorso già sono stati premiati, ma quest'anno abbiamo raddoppiato le medaglie con due medaglie d'oro e due d'argento, e quindi siamo orgogliosi di aver partecipato nuovamente a questo concorso e l'abbaglio del Cristo, giustamente, è un'azienda che merita l'attenzione da parte dell'amministrazione, perché soltanto se facciamo sistema tra amministrazioni pubbliche e realtà private, si può rilanciare un territorio. E questo è lo spirito dell'iniziativa di questo concorso. Quanti sacrifici ripagano questi riconoscimenti? Ma bisogna dire tanti, si fanno dimenticare i sudori, le fatiche, l'impegno che in un momento come questo abbiamo voluto mettere e scommettere per cercare di vingere e superare quello che è la realtà nostra di depressione e di un'economia che fa fatica a sfondarla. Noi in un momento difficile, dicevo, come questo, in un consapevole della potenzialità del nostro territorio, che ne fa una linea distintiva il territorio calcareo-gessoso, abbiamo convinto, dicevo, di questa potenzialità, abbiamo voluto scommettere, cercando di far crescere una realtà che già in sé c'erano tutte le possibili risorse per spuntarla e andare avanti. Bisogna dire che questa scommessa in parte l'abbiamo vinta. Se è vero com'è vero che noi siamo in commercio da due anni e, giustamente, come diceva il sindaco, l'ultimo riferimento al concorso selezione del sindaco, che è appunto portato avanti da una società, città del vino, che vuole promuovere, appunto, lo scopo è quello di promuovere, le realtà medio, piccole e medio, per, diciamo, che producono vino di qualità e portarli nel giro, nel mondo, per far crescere, aumentare la visibilità di questo, diciamo, di questa azienda. Dicevo che in questi due anni noi siamo orgogliosi, lo possiamo dire, perché accanto a queste medaglie si aggiungono, diciamo, già circa 80 nel corso di questi piccoli due anni, siamo ancora giovanissimi, tra medaglie d'oro, argento, bronzo, gran menzione, siamo presenti in molte parti del mondo, così come con il passaparola, perché chi ha avuto la possibilità di accostarsi a una delle nostre bottiglie ne è rimasto, diciamo, soddisfatto, ecco, non vogliamo usare altri termini più incisivi, soddisfatto, e ha voluto comunicarlo a chi poteva, agli amici, ai parenti, per dire c'è una realtà che va scoperta. E noi questo abbiamo voluto fare, e certamente questi premi ci, diciamo, ci gratificano, ci fanno capire che non abbiamo sbagliato. Grazie a tutti.